sto per raccontarvi la storia che sta alla base della nascita del gruppo degli impressionisti e voglio farlo come se si trattasse di un racconto di un film parto quindi mostrandovi una immagine un dipinto di gruppo in cui sono presenti la maggior parte dei personaggi che saranno protagonisti di questo incredibile momento storico artistico la stagione appunto dell'impressionismo come se fosse davvero un film allora vado a presentarvi personaggi immaginatevi quei film d'azione tipo Ocean's Eleven qualcosa del genere in cui c'è un colpo che si sta preparando ecco il colpo che gli impressionisti stavano preparando era culturale nel senso che nel 1874 organizzeranno la loro prima mostra in modo assolutamente autonomo al di là del sistema così come normalmente funzionava il sistema di esposizioni attraverso i salon ufficiali statali che venivano organizzati e con una giuria che selezionava gli artisti ecco i nostri ve lo racconterò nel prossimo video i nostri stavano cercando di siccome erano costantemente reputati dai salon si stavano organizzando per esporre autonomamente allora in questo dipinto di un pittore francese che si chiama Henri Fontaine Latour che non è un pittore impressionista come vedete un tipo di pittura ancora assolutamente accademico e ombroso con questi bruni prevalenti sembra quasi un dipinto perfettamente ottocentesco ma anche con grandi riferimenti alla pittura spagnola o fiamminga comunque questo dipinto come vedete di Fontaine Latour ci presenta un gruppo di personaggi in uno studio è lo studio alle Batignolle che era questo quartiere questa zona di Parigi all'epoca abbastanza periferica di un po appunto non di grande prestigio nella quale zona nella quale appunto alcuni di questi artisti avevano trovato i loro studi a poco prezzo vi presento quindi i protagonisti siamo nello studio di un artista in particolare quello come vedete qui seduto intento a dipingere davanti al cavalletto un po come se fosse Goya o prima ancora Velázquez pronto a dipingere e lo vediamo intento a cavalletto questo è Édouard Manet Édouard Manet non esporrà mai con gli artisti impressionisti è un po' come se fosse la mente del gruppo nel senso che lui era un po più anziano di tutti gli altri pittori e verrà visto da tutti gli altri artisti impressionisti come il grande ispiratore il maestro tra tutti ma lui non esporrà mai nelle mostre impressioniste saranno otto le mostre impressioniste dal 1874 al 1886 non esporrà mai con loro perché quando vi racconterò di lui vi spiegherò meglio ma Édouard Manet vorrà in qualche modo essere riconosciuto in modo ufficiale dal sistema quindi lui tenterà di esporre ed esporrà nei saloni ufficiali o al limite nei salon delle fusei questi saloni che verranno creati per gli artisti rifiutati dai saloni ufficiali quindi ecco qua Édouard Manet in azione di fianco a lui presento solo i personaggi importanti intento a guardare quasi come se fossi in ammirazione con le mani giunte quasi con timore reverenziale a studiare l'opera del maestro niente meno che Auguste Renoir uno dei pittori impressionisti più illusi e più importanti di fianco a lui lo vedete con questo paio di occhiali in mano e rivolto verso lo spettatore nonostante non sia guardando nella nostra direzione ecco a voi Emile Zola scrittore importantissimo e molto amico stimava se non altro Manet e scriverà la monografia dedicata appunto all'opera di Manet e poi l'ultimo artista che vi presento di questo gruppo di letterati artisti in questa scena ecco a voi Claude Monet Manet 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 una sola lettera di differenza ma è sostanziale Claude Monet rappresenterà lo vedrete davvero il vero impressionista colui che davvero dà la vita in pieno alla poetica di questo gruppo di artisti ma intanto avete visto che sono un gruppo e questo è veramente importante dopo avervi introdotto i personaggi con questo dipinto lo faccio in forma più moderna come abbiamo già imparato a fare in precedenza anzi no vi commento siccome quel dipinto è custodito alla Gardossè di Parigi dal sito della Gardossè ci viene riportata anche questa sorta di commento all'opera di Fantin Latour il quadro rispecchia l'opinione che Zola ha di Manet attorno alla figura di un pittore offeso dal pubblico si è creato un fronte comune di pittori e scrittori che lo considerano come un maestro e qui già apprendiamo che Zola parteggiava per Manet ma soprattutto che il pubblico aveva dileggiato le opere di Manet quindi per quanto fosse l'artista più anziano quello più tradizionalista se vogliamo dal punto di vista pittorico anche se poi vedremo appunto che lo sarà solo fino a un certo punto il pubblico assolutamente non accettava le opere di Manet d'altra parte appunto un altro scrittore giornalista scriveva appunto che Manet era il dispensatore di gloria anzi riferendosi a Zola il dispensatore di gloria ai geni da osteria quindi davvero come dire un involgarimento del gusto proposto da questi artisti ma chi sono guardiamoli meglio allora vi ho già abituato al linguaggio della fotografia e allora vediamoli anche per buona parte ritratti dal nostro ormai conosciuto Feline Adar questo qui appunto Manet l'abbiamo già incontrato l'avete visto appunto dipingere ed eccolo qua in versione fotografica ed ecco qui Auguste Renoir quando sarà appunto nell'età della piena maturità ormai anziano ed ecco a voi Emile Zola sempre in un ritratto di Nadar e poi Claude Monet sempre in un ritratto di Nadar e poi vi ho inserito altri artisti che faranno parte del gruppo e che non erano presenti in quel dipinto ma che saranno altrettanto importanti ognuno con una sua specificità però mi piace nominarveli e tenete presente che non vi sto mettendo e non vi nominerò tutti gli artisti che prenderanno parte alla prima mossa impressionista perché mi farei solo confusione perché alcuni di quegli artisti io ve li farò studiare come artisti post impressionisti in questo caso il post non vorrà dire cronologicamente che vengono dopo ma vorrà dire che con la loro ricerca supereranno i raggiungimenti degli artisti che li hanno preceduti cioè o meglio i quali erano contemporanei cioè gli impressionisti quello come vedete invece è assolutamente impressionista in tutto e per tutto è Camille Pissarro si scrive Pissarro, WS, WR Camille Pissarro è un personaggio che avrà un ruolo molto importante anche di collegamento tra gli artisti impressionisti e post impressionisti un'artista che descrive in pieno quella che era appunto la stagione impressionista, lo vedrete e poi vi presento colpo di scena, Berthe Morisot Morisot si scrive, Berthe T-H-E Berthe Morisot una pittrice donna colpo di scena perché appunto abbiamo visto fino adesso che le donne erano tenute fuori dal sistema dell'arte tenete presente che Berthe Morisot aveva anche avuto occasione di essere accettata in alcuni dei salon ufficiali queste mostre collettive ufficiali che venivano organizzate dallo Stato in forma periodicamente annuale o biennale ma veniva accettata soltanto come dire nel momento in cui si adeguava al tipo di linguaggio che era quello praticato dai pittori accettati e soprattutto quando non voleva davvero mettersi in gioco come artista che voleva intraprendere una vera e propria carriera come un vero e proprio mestiere per una donna era considerato ancora come dire un passatempo il dipingere comunque ecco a voi Berthe Morisot ve la faccio vedere anche in un ritratto molto bello che le ha dedicato Edouard Manet quindi vedete che cominciamo intanto a mettere insieme i pezzettini, gli artisti, le opere perché Berthe Morisot sposerà il fratello di Manet si chiamava Eugène Manet quindi imparentata con lui li farà da modella farà da modella a Manet più di una volta qui la vedete in questo bellissimo ritratto e poi vi presento Edgar Degas che mancava da quel dipinto iniziale ma che avrà un ruolo fondamentale anche nell'organizzazione della prima mostra dei nostri artisti cui parlerò poi e poi qui concludo la carrellata degli artisti ripeto ne sto omettendo alcuni mostrandovi Alfred Sisley Sisley con la Y finale un altro degli artisti, dei paesaggisti che davvero contribuiranno a creare quel immaginario che tutti voi avete in mente quando pensate all'impressionismo ma grande protagonista di questo film se vogliamo usare questo linguaggio visto che siamo nell'epoca in cui la fotografia ha un ruolo importante come potete vedere e piano piano si assisterà anche alla nascita della cinematografia pensate che avevo anche trovato un frammento di pochissimi secondi di un'immagine in movimento cinema, video, chiamatele come volete girato dallo stesso Degas ma ho scelto poi di non metterlo comunque grande protagonista di questo film che vi stavo dicendo della stagione impressionista non saranno soltanto questo gruppo di artisti valorosi e pronti ad andare avanti per la loro strada come vi racconterò ma la grande protagonista è soprattutto la città di Parigi senza Parigi non ci sarebbe stato l'impressionismo senza impressionismo forse Parigi non sarebbe quella che noi abbiamo in mente anche oggi quando andando a visitare che nel suo quartiere di Montmartre i quartieri appunto che erano quelli vissuti degli artisti dell'epoca forse davvero non avremmo la stessa sensazione Parigi di quegli anni era una Parigi che però era trasformata rispetto al passato perché partiamo dalla seconda metà dell'Ottocento quando il barone nonché prefetto di polizia Eugène Hossmann si scrive H-A-U-S-S-M-A-N il barone Hossmann aveva iniziato una sorta di rivoluzione urbanistica abbattendo i vecchi quartieri medievali, cunicolari e creando tutta una serie di rete stradale costituita dai grandi boulevard Parigi è il grandi boulevard questi grandi viai alberati molto ariosi, molto aperti molto grandi, molto ampi tenete presente davvero che alla sua epoca Hossmann ha fatto costruire qualcosa come 165 km di nuove strade larghe e rettilinee che nel suo caso essendo un prefetto di polizia avevano anche in sé una sorta di come dire sottotesto di controllo dell'ordine pubblico ma intanto hanno creato l'immagine della Parigi che noi conosciamo anzi la tipologia urbanistica proposta da Hossmann diventerà poi il modello dell'urbanistica europea delle altre città in evoluzione europee dell'epoca vi mostro a questo punto alcuni dipinti questo è Monet che ci mostra appunto Boulevard des Capussines torneremo a parlare di Boulevard des Capussines perché avrà un ruolo molto importante per la storia degli impressionisti ma è un boulevard quindi uno di questi viali aperti alberati vedete appunto con questi spazi ariosi la Parigi che conosciamo anche noi oggi con questi palazzi ottocenteschi molto belli che si affacciano sulle strade ma queste strade molto ampie stesso discorso per un altro boulevard questo invece è dei Montmartre dipinto da Camille Pissarot intanto vedete che c'è un taglio prospettico spesso oblicuo che le opere impressioniste avranno ma di tecnica pittorica di caratteristiche visive di elementi riconducivi elementi di unicità che possiamo ricondurre a tutto l'operato di questi diversi artisti vi parlerò in un prossimo video qui vi racconto prima la storia come dire quindi Parigi la grande protagonista con i suoi viali questo appunto di Pissarot e questo ancora di Pissarot in versione notturna questo è un bellissimo Pissarot della National Gallery di Londra quindi di nuovo vedete appunto questa città in trasformazione in cambiamento i cambiamenti erano tanti era una città una Parigi festosa quella che voi avete in mente come la Parigi della Belle Epoque una Parigi in cui la borghesia era in asceso una borghesia che era moderata conservatrice ed allettata dai profitti della industria che si stava sviluppando ed ecco che allora vedremo che in questa Parigi nasceranno si svilupperanno tante stazioni ferroviarie vedete che in questo caso queste sono ne ho messe due sono due opere di Monnet di nuovo Claude Monnet che rappresentano appunto la gare Saint-Lazare la stazione Saint-Lazare vedete appunto che i materiali impiegati per queste nuove stazioni ferroviarie erano spesso l'acciaio e il vetro il ferro e il vetro così verranno definiti la famosa architettura del ferro voi avete in mente la tour Eiffel per intenderci ecco queste strutture avveniristiche spesso semplicemente imbullonate quindi assemblate a freddo con questi materiali appunto che erano progettati dagli ingegneri prima ancora che non dagli architetti ecco rappresentavano uno scenario completamente nuovo anche per l'architettura di quei giorni Monnet dedicherà alcuni dipinti come vedremo appunto a queste stazioni ferroviarie perché le stazioni rappresentavano la modernità la novità i treni a vapore li abbiamo già visti li abbiamo già incontrati con Turner ad esempio ma davvero questa sarà l'epoca di queste grandi trasformazioni ma era anche l'epoca in cui nasceranno i musei i ristoranti e le sale da ballo i teatri e la cosa più importante di tutto forse dal mio punto di vista è che Parigi improvvisamente scopre la luce nel senso che viene illuminata prima con dei lampioni a gas che poi verranno piano piano soppiantati negli anni 70 dell'ottocento dai lampioni con la luce elettrica vi mostro qui questa era una fotografia d'epoca questo invece è un dipinto di Caibot che è un altro artista che possiamo comunque definire impressionista appunto 1877 il dipinto vedete ci fa vedere questa strada parigina sotto la pioggia con questo lampione esattamente lo stesso che abbiamo visto qui per intenderci quindi davvero a testimonianza di questa Parigi che si illumina quando voi pensate alla Parigi spesso viene definita Parigi la ville lumiere la città della luce questo si intende questa fine dell'ottocento questi ultimi decenni ultimi tradicenni dell'ottocento in cui la corrente prima l'illuminazione a gas e poi la corrente elettrica porta alla scoperta della notte cosa vuol dire questo vuol dire che nasceranno tantissimi teatri vi dicevo tantissimi bistrò questi piccoli ristorantini questi piccoli caffè caffè chanton caffè concerto tantissimi luoghi di ritrovo sale da ballo in cui i parigini possono improvvisamente anche scoprire la notte vi dicevo scoprono la possibilità di impiegare il loro tempo libero anche per il piacere il piacere di stare insieme il piacere del ballo il piacere delle chiacchiere condivise delle risate delle infinite interminabili discussioni tra amici o tra intellettuali le bevute colossali gli incontri immaginatevi davvero una pareggia in trasformazione che è quella della notte è molto affascinante visto sotto questo punto di vista l'opera che vi sto mostrando è una strepitosa opera di Edouard Manet questo è detto la corte al gallery di Londra si intitola Bar or Foliberger ma ve la commenterò quando sarà il momento intanto ve la mostravo per farvi vedere davvero questi lampadari incredibilmente scenografici che riempivano questi luoghi e vedete appunto la luce elettrica che permetteva davvero lo sfavillio della della luce la possibilità di stare fuori dalla casa dalle abitazioni anche quando scende il buio immaginatevi la incredibile rivoluzione ecco questa Parigi festosa della belle époque è davvero la grandissima protagonista di questa storia questo è un altro dipinto di Pier Auguste Renoir sarà il Bal au Moulin de la Galette Moulin de la Galette era un altro locale adesso ve lo farò vedere dall'esterno insegna almeno la vecchia insegna che c'era appunto ed era quindi questo luogo di ritrovo in questo caso anche domenicale di balli di gioia vedete davvero che intanto cominciate un po' a mettervi negli occhi la meravigliosa tessitura tramatura delle luci che filtrano dalla vegetazione degli alberi che ci sono intorno vedete che i colori degli abiti dei personaggi non sono colori assoluti ma sono colori che risentono sono colori relativi che risentono del riflesso dei colori degli oggetti che hanno intorno ma di questo parleremo poi però intanto in questo sfavillio incredibile di gioia di vivere di questa Parigi festosa mi piaceva appunto mostrarvi quell'immagine vi ho inserito qui due dipinti invece di Edgar Degas che ci rappresentano questi cafés chanton questi locali questi bar questi teatri dove si faceva musica dal vivo dove c'erano grandi esibizioni spesso appunto teatro ma grandi esibizioni canore luoghi davvero o cabaret in cui appunto c'erano queste esibizioni magari anche i locali piccoli in cui davvero era possibile stare insieme e scoprire le arti anche in un senso che era quello dell'intrattenimento che forse prima non esisteva se non per classi sociali che erano molto ristrette mentre invece la borghesia ritorno ancora su questo punto in ascesa è davvero la grande protagonista di questa stagione parlando proprio di caffè devo a questo punto raccontarvi quali sono stati i luoghi importanti per la nascita di questo gruppo diciamo che se stiamo assistendo al piano che devono elaborare il nostro gruppo di artisti per mettere appunto il colpo di cui dicevo prima cioè la mostra del 1874 ecco il luogo di ritrovo in assoluto era il primo luogo di ritrovo in assoluto era il caffè Garbois vediamo se c'è scritto qualche parte qua così lo vedete no sarebbe Guerbois si scrive caffè Guerbois Garbois qui vedete appunto uno schizzo un disegno realizzato ancora una volta da Edouard Manet nel 1869 quindi prima però abbiamo una testimonianza invece che ci lascia Monet lui ci racconta che non c'era niente di più affascinante e di più interessante di ritrovarsi per scambiare delle opinioni continuamente ogni tipo di confronto in qualche modo teneva lo spirito vivo e gli incoraggiava in una ricerca disinteressata e sincera e che li riempiva d'entusiasmo per settimane e settimane finché arrivavano appunto alla messa alla resa della forma definitiva dell'idea che avevano in testa e tutto questo li rendeva ancora più coinvolti determinati e portava una chiarezza e una distintività ancora maggiore nel loro pensiero queste parole appunto sono di Monet e vi intanto torno a citare il caffè Guerbois perché il caffè Guerbois dovete sapere che era situato all'undici di Rue de Batignolle vi ricorderete quindi che lo studio di Manet che vi ho mostrato prima all'inizio del dipinto di Henri Fantenlatour era proprio lo studio de Batignolle quindi ecco il luogo il quartiere vedete che gli elementi tornano i personaggi si stanno organizzando pensate che addirittura si ritrovavano in questo caffè Guerbois ogni venerdì per discutere c'era un appuntamento fisso in cui tutti questi personaggi tornavano appunto per condividere queste opinioni artistiche pensate davvero quando noi pensiamo ai salotti ma i salotti più ottocenteschi e non quelli della aristocracia di un tempo qui stiamo parlando davvero di qualcosa di pieno fermento di situazioni perfettamente stimolanti e si arriverà addirittura poi a un certo momento a delle riunioni che diventeranno addirittura quotidiane a caffè Guerbois ma dopo il caffè Guerbois avremo Nouvelle Athènes questo locale di cui appunto abbiamo anche la fotografia e sopra vedete che c'è il bar Omoulin de la Galette vi mostravo prima ve lo rimostro per un attimo eccolo qua il depinto di Renoir ambientato nel giardino del bar Omoulin de la Galette ed eccolo qua il bar Omoulin de la Galette e sotto il bar Nouvelle Athènes l'ultima cosa che voglio anticiparvi prima di passare al che cosa è successo perché qui vi ho raccontato chi sono i grandi protagonisti il gruppo di artisti ve li ho presentati e la Parigi di quegli anni questa incredibile meravigliosa Parigi ma finisco raccontandovi mostrandovi un'altra immagine ecco questa è un'altra delle immagini meravigliose su cui noi lavoreremo che è l'assenzio di Degas e questa scena è ambientata all'interno proprio di questo caffè Nouvelle Athènes e ci mostrerà Degas vedrete che ci mostra un aspetto che non è soltanto quello sfavillante gioioso della borghesia che poteva permettersi una vita così facile e in ascesa ecco Degas come qualche altro artista del gruppo talvolta ci vorrà anche condurre a conoscere aspetti diversi insomma un pochino più ombrosi non così tanto gioiosi e facili ma di questo parleremo nel prossimo video grazie a tutti